L'Abruzzo torna all'Expo di Dubai con 26 imprese accompagnate dalla regione e dall'Arap, l'azienda regionale delle attività produttive. Dal 21 al 24 marzo le imprese saranno protagoniste sul territorio degli Emirati con un focus incentrato sulla transizione energetica. Si punta alle rinnovabili e alla produzione e allo stoccaggio di idrogeno per rendere sempre più l'Abruzzo una regione verde, come racconta al microfono del Tg8 il governatore Marco Marsilio. La terza e conclusiva missione, questa dedicata alle imprese che vogliono esportare, abbiamo fatto un bando, un avviso pubblico per capire quali e quante imprese manifestavano questo interesse, ne sono state selezionate 26 tra imprese e istituzioni anche pubbliche che andranno a Dubai con l'obiettivo di cercare nuovi mercati, nuovi orizzonti per le loro attività, per le loro merci. È un progetto che io spero possa davvero portare frutti importanti per rafforzare la presenza abruzzese. Lì ci vuole sempre coraggio per affrontare i mercati esteri, sono sfide importanti e quindi onore al merito di chi intanto ci prova e cerca di esportare le proprie produzioni e di cercare nuove relazioni commerciali che ci fanno crescere. Avete parlato anche di transizione energetica in un momento in cui l'approvvigionamento di energia è un tema di strettissima attualità? Certamente, stiamo sviluppando molti progetti in particolare sull'idrogeno verde che è davvero l'energia del futuro e quella che può permettere una autosufficienza e anche un'autoproduzione sul posto senza dover trovare in capo al mondo altri approvvigionamenti. È una sfida importante che la guerra in Ucraina ha reso ancora più impegnativa. Chi non si era accorto prima di questo tema dell'approvvigionamento energetico e della sovranità energetica dell'Italia ha creato il danno di dover oggi accelerare verso quella strada e noi cerchiamo di essere pronti. Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento presso la sede dell'Arap a Villanova di Cepagatti c'erano anche l'assessore regionale Daniele Damario e Giuseppe Savini, presidente dell'Arap. Noi abbiamo fatto un grande lavoro attraverso la collaborazione con gli istituti universitari per selezionare quelle imprese che hanno bisogno di aprire nuovi mercati e di guardare all'internazionalizzazione soprattutto nei mercati a cui si rivolge l'Expo universale. È importante affiancare le imprese nell'attività di internazionalizzazione e di apertura di nuovi mercati dove l'Expo è solo un primo pezzo perché poi attraverso gli accordi stipulati con la regione Abruzzo come braccio operativo noi abbiamo intenzione di andare a presidiare pure il pezzo che guarda i fondi diretti a Bruxelles per un'attività che deve vedere il reperimento di quelle risorse che spesso non arrivano sul territorio perché i medio-piccoli non sono in grado di gestire queste dinamiche e spesso sono abbandonati in un'attività che invece è importante perché per fare investimenti occorrono le risorse.